Ragazzi miei, ridendo e scherzando, siamo già alla vigilia, alla vigilia di Juventus toccare una parte importantissima, ritorno alla Juventus in Champions League, finalmente la Juventus torna a giocare, quanto è bello però, cioè adesso pariamoci chiaramente, se da una parte è molto stressante dal punto di vista fisico per i giocatori, per noi tifosi, per noi consumatori di questo, dello sport, del prodotto calcio, è una cosa bellissima, perché abbiamo la possibilità di godere di tantissime partite, di poterne parlare il più possibile e di avere poche pause, ed è una cosa che fidatevi per quelli che fanno il mio lavoro, per quelli che parlano di calcio su tutte le piattaforme, sport, è una cosa bellissima, cioè tu hai veramente voglia che adesso torni la Juventus in campo. Parlando un po' seriamente di questo, in questo video di cosa andremo a parlare? In questo video semplicemente andremo a parlare un pochetto di quella che è stata secondo me una grande mancanza, e quello che sarà un fattore determinante, secondo me, della partita contro lo Stoccarda e contro l'Inter. Io mi proietto già in campionato contro l'Inter, naturalmente adesso Tiago Motta oggi poi parlerà, ma sappiamo già perfettamente quale sarà l'andazza della conferenza stampa, partita partita, bla bla bla, di qua e di là, tutto quello che dobbiamo dirci lo sappiamo, però sapete perfettamente anche come a me piace pensare un po' più avanti, soprattutto vedendo la situazione degli infortunati e soprattutto vedendo quanto questo giocatore secondo me è mancato particolarmente e quanto risulterà fondamentale questo giocatore anche per il gioco di Tiago Motta, per far sì che Tiago Motta possa giostrare nella miglior maniera possibile la manovra offensiva. Ma prima, buongiorno, come state? Buon inizio di settimana a tutti, spero state bene, spero avete passato un bellissimo weekend, una bellissima settimana e che possiate appunto passarne un altrettanto migliore di settimana. Ragazzuoli, vigilia come parlavamo prima di Juventus-Toccard, oggi Tiago Motta parlerà in conferenza stampa, quindi tanta tanta roba, finalmente si tornerà a parlare anche di Champions League, non vedo l'ora di sentire la musichetta di nuovo, non sarò allo stadio, quindi me la godrò da casa e vedremo, vedremo come sarà la partita. Ditemi già un po' le vostre sensazioni alla vigilia di questo importantissimo match, poi noi qua ci ritroveremo finita la conferenza stampa di Tiago Motta pre-partita per estrarre qualcosina, qualcosina di interessante dalle parole del mister. Ma adesso andiamo direttamente al centro del video, al punto focale del video, perché oggi come avete visto l'Inter, ieri l'Inter ha vinto, un'Inter messa molto male ragazzi miei, un'Inter completamente diversa rispetto a quella dell'anno scorso, o meglio messa molto male dal punto di vista fisico. È più o meno come noi, no? Ha perso altri due giocatori, è un Inter che fa più fatica rispetto all'anno scorso, che macina meno distruttiva, meno, come si può dire, meno, oddio, non metti trebbia, meno schiaccia sassi, ecco, perché è venuto in mente mentre i termini, non lo so, però meno schiaccia sassi rispetto agli altri anni, ha un qualcosa che secondo me ha perso un po' lo smalto, poi naturalmente queste vittorie qua sono molto importanti e gli permettono di arrivare contro la Juventus con una vittoria, affrontare la Juventus con una vittoria praticamente a pari punti se non sbaglio, o comunque siamo lì. E ragazzi miei, un giocatore che alla Juventus è mancato in questa partita, è una partita contro Cagliari, che secondo me risulterà fondamentale sia contro lo Stoccard che contro l'Inter, nemmeno a dirlo, è con Seissau. Con Seissau, ragazzi, penso che gli esterni che saltano l'uomo per il gioco di Tiago Motta siano un qualcosa di fondamentale, perché noi abbiamo visto quanto attraverso le tirangolazioni molto spesso facciamo fatica, la davanti ne ha partita contro il Cagliari, contro il Cagliari, contro la Lazio, scusate, oggi sono fuso, scusate ragazzi miei, ma sapete, l'utilizzo in sostanza è super facile, no si scherza, però avete visto quanto nella partita contro la Lazio sia mancato un giocatore che salti l'uomo là davanti, quanto sia fondamentale nel gioco di Tiago Motta, perché noi arriviamo là davanti, alla porta, all'area di rigore, ma facevamo fatica, proviamo sempre tramite le triangolazioni, ma se la squadra è messa bene, sai, se la squadra avversaria appunto è messa bene, fai molta fatica, ma molta molta fatica, al contrario invece se tu dovessi riuscire a essere più imprevedibile, essere molto più imprevedibile sarebbe molto più facile, e questa imprevedibilità chi te la dà? Chi è che te la dà questa imprevedibilità? Ragazzi, i calciatori che ci saltano l'uomo, e alla Juventus contro la Lazio è mancato il giocatore che saltava l'uomo, Nico Gonzalez potrebbe farlo, però Nico Gonzalez è un giocatore infortunato, con se sa ho squalificato, e se ci penso mi viene ancora nervoso per quella squalifica, qui vedete, il Diz al momento fa fatica, il Diz al momento fa fatica, ma non perché sia scarso, cioè raga, per farvi capire, la maglietta mia, questa qua, è di Kenan, la mia massima fiducia nel giocatore c'è, cioè non è che adesso è diventato scarso, no, bisogna accompagnarlo in questo percorso, ne parlavo anche nel video di oggi, là per me perde un po' tutto il potenziale che ha in quella zona di campo, messo là così, abbandonato a se stesso, vedremo, vedremo cosa riuscirà a inventarsi Tiago Motta, vedremo cosa riuscirà a tirar fuori Tiago Motta da Ildis, però un giocatore che manca, un giocatore che serve alla Juventus, un giocatore che salta l'uomo, questa è la chiave fondamentale che sarà importantissima sia contro l'Ottocarda che contro l'Inter, moltissimo, perché davvero Tiago Motta imposta tantissimo, tantissimo sugli esterni, imposta tantissimo su questa manovra offensiva, e la Juventus dovrà essere in grado di saperla sfruttare nella migliore maniera possibile, ecco, io mi auguro che si possa fare, che si possa riuscire a gestire questa caratteristica, perché, veramente, bisognerà essere molto molto bravi contro lo Stoccarda. Vedremo se anche Copp Maners riuscirà a rientrare, vedremo se McKennie riuscirà a rientrare contro l'Inter, contro lo Stoccarda, però sarebbe oro colato, perché la davanti veramente serve qualità, serve imprevedibilità, serve qualcuno che prenda l'iniziativa, serve qualcuno che ti sappia saltare l'uomo, serve quella la Juventus, serve quello, e io mi auguro e spero che possa esserci, possa esserci uno dei due, naturalmente io mi auguro un po' più, dovessi scegliere, preferirei un po' più un Copp Maners, perché ha sull'altra quarta e ti dà quella imprevedibilità in più. Questo è, ragazzi, questo è, io ho provato un pochetto a dirvi il mio punto di vista su quello che è il giocatore che mancava, principalmente alla Juventus, come al solito voi, fatemi sapere la vostra nei commenti, vi voglio vedere bene attivi, vi voglio vedere attivi anche lunedì mattina, vi ho già detto prima che ci troveremo qui, finita la conferenza stampa, io vi ricordo, come al solito, non ve l'ho detto prima, di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, di commentare dicendomi la vostra, perché è molto molto importante, credetemi, è importantissimo, noi ci vediamo presto con un nuovissimo video, un saluto, un abbraccio e ciao!